Caelin, da minus 21. Abbiamo avuto un gioco per gioco. Abbiamo avuto un gioco lungo. Abbiamo iniziato lentamente, la nostra difesa non era bene nella prima quarta. Abbiamo avuto un passo per un passo per un passo, abbiamo avuto la difesa e abbiamo potuto tornare e ottenere il gioco. Bologna ha iniziato sotto la ruota in questa season. Potremmo pensi che Bologna possa essere il d'orso per inclinare il gioco? Sicuramente. Credo che questa liga è in grado, è un paio di grandi team e credo che nessuno può battere nessuno. Solo devi andare a giocare. Credo che è meglio per noi rimanere sotto il radar, perché non c'è pressione e possiamo solo andare fuori e giocare il basket. Grazie. 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 Quindi Dwight ci ha detto che sì, per loro forse è meglio rimanere sotto il radar, perché, come dire così, c'è molta meno pressione. È un campionato in cui chiunque può battere chiunque. Ci sono molte squadre molto forti, però come ci ha detto Dwight, rimanere sotto il radar e non essere sotto i riflettori può essere la chiave per portare a casa un posto nei play-off. Grazie. Grazie.